Benvenuti in questo nuovo video ed oggi un po' su richiesta, un po' sul consiglio di alcuni di voi vi andiamo a parlare di alcune trame, ne abbiamo selezionate 5, che sono presenti nei libri ma non nella serie televisiva e che almeno secondo noi sarebbero dovute esserci anche nella serie per la loro bellezza e per la loro importanza questo perché effettivamente negli ultimi anni soprattutto sempre più trame e sottotrame sono state tagliate queste qui meritano una menzione particolare anche perché magari molti di voi sono curiosi di sapere cosa sta accadendo nei libri mi riferisco a chi non li ha letti, però ovviamente questo video sarà pieno di spoiler quindi se non li avete letti e avete intenzione di leggerli i libri fate attenzione perché vi andiamo a raccontare non delle sottotrame, non dei dettagli ma delle trame anche belle importanti e quindi cominciamo da questo ipotetico quinto posto, diciamo così, partendo dal basso anche se in realtà già di per sé sta trama è importantissima ed è la sottotrama dedicata a Davos perché sì, nei libri Davos, mentre Stannis è alla barriera alla ricerca di alleati per portare poi la conquista di Grande Inverno invia Davos a Porto Bianco per stringere un'alleanza con i Manderly e qui conosciamo Lord Manderly che è un personaggio abbastanza amato dai fan nei libri sebbene poi invece nella serie fa solo una comparsata, lo vediamo veramente di striscio questo perché nella serie, nei libri anzi, lui cosa fa? si finge un Lord pacioccone, tranquillo, finge di essersi sottomesso anche tranquillamente ai Bolton però in realtà sta lì a tramare perché è rimasto fedelissimo agli Stark e tra l'altro è anche di uno di quei Lord particolarmente cattivi perché non so se vi ricordate, le fry pie, cioè i tortini di carne a base di carne di frei morti che vengono introdotti da Arya nella serie in realtà li introduce Lord Manderly nel libro è un personaggio particolarmente crudele da un certo punto di vista ma è un fedelissimo degli Stark quindi lui in questa trama, e noi siamo qui in attesa da anni che questa trama continui perché è importantissima propone sì di allearsi con Stannis solo a patto però che Davos parta per le isole Skagos dove a quanto pare si è nascosto Rikon che nei libri è ancora vivo e stiamo aspettando che Davos lo vada a prendere sono anni, sono sei anni, quanti anni sono? troppi, troppi e comunque c'è questa trama importantissima che riguarda Davos salendo poi diciamo di una posizione c'è tutta la questione relativa a Quate questo personaggio misteriosissimo che non mostra mai neanche il suo volto ed anche in questo caso compare nella serie televisiva nella seconda stagione però poi sparisce, se la sono dimenticata e questo non va bene no, assolutamente nei libri lei rimane in qualche maniera sempre a contatto con Daenerys o attraverso i suoi sogni o attraverso queste candile di vetro che sono un altro oggetto che è scomparso nell'adattamento televisivo ma che è un artefatto magico anche questo è abbastanza importante nei libri e praticamente Quate avrebbe l'obiettivo di aiutare Daenerys ma sarebbe troppo semplice dire vai lì, fai questo, torna là no, che siamo in World of Warcraft ovviamente no, lei dà questa famosissima profezia a Daenerys che Daenerys fatica e in realtà tutti noi fatichiamo a capire che diavolo significa sta profezia di Quate che nella serie tv li sono bellamente scordati è una cosa tipo importantissima che Daenerys si ripete in testa più volte di quanto Tyrion si ripete in testa dove vanno le puttane e quindi tutte quante queste cose belle saltate nella serie hanno semplificato forse hanno fatto bene, chi può dire visto il grado di cripticità del tutto magari si scopre che alla fine è Quate sto dicendo cavolate alla fine nei libri non conta nulla chi può dirlo, chissà alla terza posizione poi troviamo addirittura due artefatti magici che se usati potrebbero veramente cambiare le carte in tavola nelle cronache del ghiaccio e del fuoco e si tratta di due corni magici abbastanza diversi tra di loro uno è Dragonbinder si trova in mano a Euron Greyjoy lui dice di averlo trovato a Valeria e di poterlo utilizzare per controllare i draghi e quindi il suo obiettivo è proprio quello di rubare i draghi di Daenerys ed è un corno dall'apparenza in realtà si raffinata ma abbastanza normale fatta eccezione per un dettaglio una faccezia e chi lo suona brucia dall'interno e muore ora noi non sappiamo se questo sacrificio ha avuto effetti in qualche modo visto che il corno in realtà non è stato suonato vicino ai draghi e quindi non abbiamo visto se ha avuto effetti o meno sappiamo che chi l'ha suonato è schiattato è pace all'anima sua dobbiamo vedere adesso se questo corno effettivamente funzionerà nella sottotrama di Euron e principalmente in realtà di Victarion che nella serie ovviamente non solo ci sono sconati il corno ci sono sconati proprio di Victarion Greyjoy quindi ciao c'è poi il corno dell'inverno il corno dell'inverno in teoria dovrebbe essere quello che si vede in tutte le immagini dalla copertina di Dovenza Winter questo fantomatico libro che forse uscirà nel 2013 a qualche accusato adesso il giusto corno se l'hanno messo in copertina a me se non concesso che quella sia la birra copertina secondo me in realtà è il corno da birra di Ren Robert che metteranno in mano a Robert Strong nel prossimo libro ok sono molto contento ok chiudiamo il video teorie finite il corno di Joramon in realtà sai capire ho parlato di Joramon perché effettivamente questo corno secondo i miti dovrebbe essere appartenuto a tale Joramon antico re oltre alla barriera che con questo corno diceva di poter risvegliare i giganti in più c'è un potere extra che è quello di poter abbattere la barriera non puoi tagliare una cosa del genere dalla serie è importante puoi se fai diventare Viserion un drago a metano Viserion col corno ci sono varie teorie riguardo del corno e in realtà non so se voi lo ricordate ma si ve lo ricordate perché ce lo dite ogni volta nei commenti ve lo ricordate sto corno viene trovato anche nella serie nei libri lo trova Spettro insieme a tutti quanti gli artefatti e le armi in vetro di drago e nei libri sempre nei libri questo corno non se lo son dimenticato grazie ai dio perché nella serie non è comparso mai più e dovrebbe averlo sempre il solito Sam che ha le armi in accello di Valeria le armi in vetro di drago ha ammazzato di estranei e c'ha pure il corno che abbatte la barriera non potevamo poi menzionare ancora una volta la sottotrama di Dorne che per noi per importanza è bellezza si meritava proprio la seconda posizione in questa quasi classifica però appunto abbiamo dedicato un video di 25 minuti alla parte del quarto libro solo del quarto libro nel quinto libro succedono altre robe quindi vi rimandiamo a quel video per quanto riguarda la prima parte e poi forse la seconda parte non ve la raccontiamo neanche oggi perché vogliamo dedicarci un video a parte però non potevamo non esserci in questo elenco e tra l'altro ha molta importanza questa parte dei Dorne oltre per il fatto che è una trama molto importante e molto pesante che potrebbe sembrare chiusa a tutti gli effetti per certi avvenimenti che magari poi vi spiegheremo ma in realtà Dorne entrerà a far parte proprio a gamba tesa ci entrerà nella sottotrama che abbiamo eletto come quella più importante senza dubbio è eliminata dalla serie ci riferiamo ovviamente alla trama di Griff il giovane immagino che molti di voi avranno già indovinato questa prima posizione per chi non sapesse nulla vi ricorderete che durante il sacco di Aplodo del Re alla fine della ribellione di Robert venne uccisa Elia Martell con i suoi figli e questo lo sapete sicuro perché durante il duello tra la montagna e Oberyn Oberyn non fa che ripetere altro e quindi l'erede che sarebbe dovuto essere di Rhaegar Egon morì a causa della montagna ora facciamo un bel salto in avanti e arriviamo al momento in cui Tyrion è praticamente in viaggio in tutta Essos ed entra in contatto con questa allegra compagnia di militari, magari mercenari chi può dirlo che tratta particolarmente bene e ha tra le sue fila un giovanotto di nome Griff Griff il giovane che Tyrion grazie al suo particolare acume riesce a riconoscere prima come un Targaryen e poi come Aegon Targaryen sopravvissuto alla strage e a questo punto ci viene detto che Varys prima che la montagna arrivasse alla fortezza prese il bambino lo sostituì con un altro neonato poverino che si è beccata una manata contro il muro della montagna e ha preso il piccolo Targaryen l'ha portato a Pentos dove qui è stato cresciuto da Illyrio l'amico di Varys ed è quindi sopravvissuto in qualche maniera e con il sostegno della compagnia dorata Aegon Targaryen quello che potrebbe diventare effettivamente Aegon VI sarebbe poi stato cresciuto per diventare il re perfetto per poi tornare effettivamente a Westeros e reclamare il trono che fu non di suo padre però di suo nonno legittimo trono dei Targaryen e questa trama è chiaramente importante per tanti motivi innanzitutto già sappiamo dagli estratti del prossimo libro che in qualche maniera si andrà a ricollegare proprio con quella dei Martell e quindi Ariana Martell e Griff potrebbero far parte della stessa dello stesso filone in più ne abbiamo parlato in altri video ci sono varie teorie molti pensano che magari questo Aegon Targaryen sia in realtà un Blackfire e quindi addirittura potremmo avere non una guerra non una danza dei draghi ma una ribellione Blackfire nel prossimo libro anche se poi non si sa se Aegon è consapevole di questo o meno ci sono tanti elementi molto fighi e ci dispiace non averli potuti vedere anche nella serie televisiva e quindi detto questo noi chiudiamo qui il video che è una top ma non è proprio una top che va ad ignorare alcuni personaggi alcune trame che abbiamo già analizzato per esempio la storia più triste di Game of Thrones quella relativa a Jane e ci sono anche personaggi che abbiamo tagliato tipo non abbiamo citato in questo video che è pure molto importante di The Stoner di cui poi abbiamo già parlato ma che magari è solo per un video su un personaggio che magari dedicheremo in futuro e quindi non proprio una trama perché qui ci sono concentrati a veramente delle macro trame che nella loro importanza nonostante la loro importanza sono state tagliate completamente con macete che sicuramente sarebbe andate molto bene da vedere sicuramente qualcuno ci dirà ma avete tagliato Victarion avete tagliato non avete parlato di The Stoner magari facciamo un altro video con altri 5 personaggi riferendoci solo i personaggi non tanto alle trame poi li inseriamo là ma vediamo se vi piace questo video è comunque un video fatto sull'istinto cioè sul nostro amare queste trame ecco diciamo così c'è sempre tempo per farne altri anzi fateci sapere se vi è piaciuto questo video ne facciamo altri simili raggiungiamo 14 milioni di mi piace per il prossimo video su su eh eh ok quindi noi prima di salutarci io vi voglio ricordare che utilizzando i link in descrizione il codice sconto STANNIS tutto maiuscolo sul sito di magliette tema nerd pampling potete avere il 15% di sconto tutte quante queste magliette felpe e capi di vestiario tema per l'appunto nerd come la felpa che ormai vi mostro da un paio di video perché effettivamente stiamo facendo tutto insieme non è che non mi cambio mai da 4 settimane non sono un puzzone quindi mi raccomando se vi interessa trovate quei link in descrizione vi faccio guadagnare qualcosina di commissione non queste grandi ricchezze però qualcosina anche natale se volete farvi un bel regalo ci sono le felpe buttatevi noi ci vediamo qui al prossimo video guarda vi faccio guadagnare vi faccio guadagnare vi faccio guadagnare vi faccio guadagnare